L'Arezzo alla caccia del trese con un terno secco da giocare, del resto il tre il numero perfetto e sui tre davanti in realtà. 3 più 1, Indiani conta di sfruttare quello che di utile il bilancio ha fatto segnare nelle ultime partite. La fermana sulla carta è un avversario facile, ma la squadra marchigiana non ha mollato alla presa e farà di tutto per portare a casa un risultato positivo. I ragazzi di Mosconi sono sull'orlo del baratro e ad Arezzo si giocano gran parte della loro stagione, ma non ci sarà posto per i sentimenti anche in casa Maranto. Indiani ha alzato il livello aumentando i giri della preparazione, la cura Pecorari sta funzionando alla grande e a parte l'infortunio subito da Bianchi che è costretto a fare i conti con una tendinita al ginocchio destro e agli effetti della spalla malconcia di Ecuban dopo Cesena, tutto il gruppo sta rispondendo alla grande. Dunque la caccia del trese di vittorie consecutive, cosa ancora mai riuscita con un pacchetto offensivo, niente male visto che Gucci porta in dote 10 gol, Pattarello, Gnasegnati e 8, stesso bottino anche per Filippo Guccione, ma anche Gaddini scalpita anche se ultimamente si è imposto più come uomo assist della serie di tutto di più.